Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta di curcuma. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, curcuma e pepe nero. Diamo il via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, la curcuma e il pepe nero. Ed azioniamo il bimbi per 12 minuti, 100 gradi, velocità a 2. La pasta di curcuma è pronta, trasferiamola in un contenitore. Pasta di curcuma. Si conserva in frigo per 15 giorni oppure può essere congelata nei contenitori per il ghiaccio. È ideale per fare il golden milk, per insaporire yogurt, zuppe, sughi, salse e se piace il gusto può anche essere mangiata a cucchiaino. La dose giornaliera va da 3 a 4 grammi. La curcuma è un potente antinfiammatorio naturale, è ideale per i dolori articolari, muscolari, per disintossicare il fegato o è utile anche per i dolori mestruali, per problemi digestivi e colesterolo alto. Pasta di curcuma. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.